Love's in the air, trama puntate. Mercoledì 9 giugno 2021. Grazie ad un escamotage, Serkan riesce a ottenere l'incarico importante che voleva e smaschera Khan. Bolat è più tranquillo e essendo convinto che ormai il terribile collega sia fuori dai giochi per un po'. Serkan incontra Eda per gli aggiornamenti e quest'ultima sembra essere più rilassata. Sono passati diversi giorni dal fidanzamento e ormai la pressione di amici e parenti sembra essersi allentata. Anche Selene non si è fatta assiduamente viva. La serenità di Eda però dura poco in quanto proprio la stessa Selene fa una proposta sconvolgente alla coppia. Infatti si autoinvita a casa di Serkan ed Eda per cenare insieme. La ragazza dice infatti che una sera si presenterà a casa loro per festeggiare insieme i rispettivi imminenti matrimoni. Selene non sarà sola ma con lei ci sarà Ferit, il suo promesso sposo. Subito dopo questa proposta Eda e Serkan si lasciano prendere dal panico. La casa che hanno indicato non è quella in cui convivono perché effettivamente non vivono insieme e non sono realmente fidanzati. Basterebbe che Selene si presentasse lì per mandare a Monte il loro segreto e la riputazione di Serkan sarebbe distrutta. Volat però non sembra particolarmente preoccupato e lascia ancora una volta che sia Eda a salvare la situazione. Grazie a tutti.